Ed eccoci qui a scoprire la seconda parte dell'episodio del 4 novembre, ripartendo esattamente dove vi avevo lasciato, cioè da quando una umid sconsolata entra nella stanza della paziente Zuleila, molto addolorata e soprattutto gelosa, barca questa soglia e conforta la paziente dicendole che non possiamo certo fare a meno di notare quanto Demir sia stato presente e quanto sia devoto che è rimasto al suo fianco ininterrottamente fino a quando è stata ritrovata. Ma voi cosa ne pensate? Pensate che Umid starà zitta zitta o che sta già pensando alla sua vendetta? Scrivetemelo sotto nei commenti. Ma prima di continuare ricordatevi iscrivetevi al canale perché anche domani ci sarà una puntata a vincente pronta per voi. Mentre Zuleila è in ospedale soccorsa da tutti i medici e cercando di farle riprendere tutto quello che ha perso, quella notte Fikaret distribuisce manifesti in tutta Ciucurova. La mattina seguente gli abitanti leggono i manifesti che mantengono la lettera che Adnan aveva scritto alla madre di Fikaret. Le reazioni dei cittadini sono contrastanti con alcuni che si schierano a favore di Adnan e altri che simpatizzano per la donna e il bambino. Anche all'interno dell'azienda di Demir i manifesti fanno scalpore e gli impiegati increduli commentano. Quando Demir arriva in azienda chiede cosa stia mai succedendo e la segretaria gli indica il manifesto. Demir lo legge con sconcerto rimanendo paralizzato dalla notizia. È visibilmente scosso. E Erian gli riferisce che i manifesti sono stati affissi in tutta la città. Demir a questo punto ordina i suoi uomini di rimuovere immediatamente tutti i manifesti presenti in città. Nel frattempo Fekeli legge i manifesti insieme a Cetin e afferma che Fikaret non si fermerà nella sua guerra ma sottolinea l'importanza di fare tutto il possibile per fermarlo. Anche Mujigan legge il manifesto e ne discute con i suoi colleghi in ospedale. Aikut, il cugino di Fikaret, ipotizza che dietro questa storia non ci sia una richiesta di denaro e successivamente, considerando che chi sostiene di essere il figlio di Adna dovrebbe avere circa 30 anni, chiede a Batizar se sia lui. Batizar si offende e lascia la stanza poco dopo. Mujigan si reca da Umit e le pone una domanda sorprendente riguardo al manifesto e a cosa pensi Demir al riguardo. Umit è visibilmente colpita dalla domanda ma Mujigan le assicura che non dirà a nessuno che era fuori con Demir. Mentre Umit è ancora molto sorpresa per questa sua comunicazione viene interrotta da un'infermiera d'urgenza e non riesce a rispondere a Mujigan. Quest'ultima commenta che l'amore di Demir per Zuleyla è svanito da quando Umit è entrata nella sua vita. Poco dopo Demir si dirige nella stanza di Zuleyla dove trova già presente Sermin. Quest'ultima gli chiede dove fosse durante il fine settimana poiché il sottosegretario le aveva detto di non averlo incontrato. Demir si arrabbia per le indagini di Sermin e le risponde bruscamente che non può ricordare con quale sottosegretario avesse appuntamento in quel momento. In quel momento entrano nella stanza Umit e Mujigan e Umit annuncia a Zuleyla che può essere dimessa, che si è ripresa sufficientemente per tornarsene a casa. Davanti a tutti Umit ringrazia Demir menzionando il viaggio ad Ankara insieme e il fatto che l'abbia accompagnata a casa di un amico. Poi chiede a Demir di seguirla per completare le procedure di dimissione di Zuleyla. Rimasti soli Umit avverte Demir che Mujigan sa della loro presenza insieme durante il fine settimana e che ha inventato quella storia per distogliere ogni sospetto. Poi Umit nota che Sevda sta per raggiungerli e inizia a parlare della terapia che Zuleyla dovrà seguire. Quando Zuleyla lascia l'ospedale Mujigan si avvicina a Umit e le dice di notare che prova qualcosa di speciale per Demir. Umit risponde che è solo un suo sogno. Nel frattempo in questo momento di confidenza Mujigan chiede a Umit se è davvero innamorata di Demir e Umit risponde affermativamente spiegando che è successo però inaspettatamente. Mujigan condivide quindi la sua tristezza riguarda la sua situazione e comincia a parlare anche della sua situazione con Fikaret spiegando che non ci potrà mai essere nulla tra di loro a causa di un'altra donna che ha scoperto che vive in Germania. Ma Umit rassicura Mujigan dicendo che gli hanno detto che con quella donna è finita da due anni e che ora è sposata e vive a Praga con un figlio quindi ha una sua vita. Questo incuriosisce Umit che chiede quale sia veramente il problema di Fikaret. Quando Demir arriva alla villa con Zuleil e Sedda scopre che i muri fuori dal cancello sono coperti da manifesti di Fikaret. Demir si infuria tantissimo per i manifesti affissi sui muri e rimprovera Gaffur per non essersene nemmeno accorto. Poi ordina che i manifesti vengano immediatamente rimossi. Nel frattempo all'interno della villa Sevda esprime preoccupazione per la reazione di Demir definendo Fikaret pazzo per essere arrivato così vicino alla loro casa. Zuleila improvvisamente diventa pallida. Ha come un flash, una luce. Blocca Sev e le dice mi ricordo, mi ricordo tutto. Ricorda aveva visto Fikaret in azienda proprio il giorno in cui lei è scomparsa. Mentre prendeva, staccava qualcosa dal muro e furtivamente usciva dall'azienda. Aveva cercato subito di fermarlo ma lui era salito in macchina velocemente ed era fuggito. Lo aveva seguito a questo punto fino a un sentiero nel bosco. Quando aveva visto la sua macchina ferma anche lei si è fermata e scesa dall'auto. E mentre lo stava cercando nel bosco Fikaret l'aveva sorpresa da dietro alle spalle e l'aveva addirittura afferrata per il collo. Poi l'aveva improvvisamente lasciata e Zuleila gli ha chiesto ma cosa stesse facendo se stesse bene. Fikaret era sconvolto e a questo punto è andato via lasciandola lì sola ancora appoggiata alla pianta un poco angosciata. Mentre lo seguiva ancora per cercare di parlargli, per cercare di capire, ecco che la sua gamba rimase bloccata dentro a una tagliola per gli animali. Confermando così a Zuleila che Fikaret era veramente l'autore delle lettere ed era il figlio di Ardan Yaman segreto. Sevda le chiese se Demir era a conoscenza di tutto ciò e Zuleila rispose che lei non lo sapeva. A questo punto Sevda le suggerisce di non dire assolutamente nulla a Demir perché è troppo infuriato in quei giorni e Zuleila è perfettamente d'accordo con questo suo pensiero. Ma voi a questo punto cosa ne pensate? Mettete un like se credete che Demir si rimetterà con Zuleila. Rimangiandosi le promesse fatte ad Umit. Noi pensiamo che andrà proprio così e se volete scoprire quale sarà veramente la reazione di Umit che vi assicuro sarà sconvolgente, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale. Se siete pronti naturalmente per ulteriori colpi di scena, spoiler e novità.